Incidente inottata lungo via Camisana a Torre di Quartesolo per un'auto finita nel prato di una villa dopo aver abbattuto il muro di recensione, ferita una giovane donna. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto, in collaborazione con il personale sanitario del SUEM, la donna, che è stata stabilizzata e trasferita in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell'auto da parte del soccorso stradale.